Sono stati sorpresi in tre comodamente seduti ad un tavolino mentre consumavano delle bevande. Per questo motivo la polizia municipale di Arezzo ha nuovamente disposto la chiusura di un altro locale, ancora una volta per il mancato rispetto delle normative anti-covid. È successo domenica pomeriggio nell'ambito dei numerosi controlli in centro volti a verificare l'effettiva chiusura alle 18 di tutte le attività di somministrazione, a finire sotto la stretta degli agenti della polizia municipale, è toccato così ad un circolo di saione. Dentro al locale i vigili hanno infatti trovato tre persone sedute ad un tavolino mentre consumavano delle bevande. Sono immediatamente scattati i provvedimenti a carico del gestore, ossia la sanzione amministrativa di 400 euro e la chiusura del locale per cinque giorni.